Regeneration Home ha corato e inaugurato una residenza sociosanitaria assistenziale nata da un'idea di un gruppo di imprenditori locali con la volontà di realizzare una struttura inserita e radicata sul territorio dedicata a soggetti con deficit o funzionali o con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili o difficilmente curabili e a domicilio, con lo scopo di offrire assistenza medica infermieristica e riabilitativa accompagnata da un livello alto di assistenza tutelare alberghiera ai fini della riabilitazione e della conseguente reintegrazione sociale degli ospiti. Un'inaugurazione che ha visto partecipare le massime autorità istituzionali del territorio con la cerimonia di benedizione affidata a sua eccellenza Monsignor Giovanni Battista Picchieri, arcivescovo della diocesi di Trani Barletta-Biceglie. Plaudia all'iniziativa il sindaco di Corato Massimo Mazzilli ricordando che la Regeneration Home rappresenta un buon segno di partenariato pubblico privato. All'evento anche il senatore Giovanni Procacci in rappresentanza della regione Puglia per il quale strutture come queste si devono guardare come occasione di servizio per l'uomo e come centralità dell'uomo che è il fondamento di questa iniziativa. Per Nicola Giorgino, presidente Batt, questa iniziativa dimostra che gli imprenditori sono più avanti della politica che da 7-8 anni discute soltanto della riorganizzazione dei servizi sanitari sul territorio. Una struttura al servizio del territorio e della popolazione spiega Francesco Liantonio, componente dell'accordata di imprenditori, che ha dato vita al progetto nato dopo ben dieci anni di iter burocratici e di progettazione. Si tratta di una struttura per certi versi aveniristica in termini strutturali energetici e di servizio per l'utenza anche grazie all'utilizzo di tecnologie innovative finalizzate alla tutela dell'ambiente a basso impatto ambientale. La struttura si pone inoltre come polo di ricerca dove verranno approfondite tematiche innovative e alternative rispetto alle tradizionali terapie attualmente in uso.